Direi un altissimo livello, io sono abituato a gestire tornei internazionali, però ci sono tutti i migliori giocatori italiani e i giocatori che vedo in giro per il mondo, quindi sicuramente sono venuti a dare lustro a questa manifestazione per conto della Federazione Italiana Tennis. In totale noi abbiamo 103 coppie maschile, circa una sessantina, settantina femminile, divisi gli uomini in tre tabelloni e le donne in due tabelloni. Abbiamo un buon livello quest'anno perché nel ranking le prime coppie ci sono tutti, da Carli Cappelletti a Gambi e Mingozzi a Calbucci, li abbiamo tutti quanti, da Maldini, Cramarossa, Strano, insomma sono un po' tutti. Nelle donne stesso discorso, diciamo come livello abbiamo Buonadonna Delia, la Curzi, la Cimatti, la Visani, ci sono un po' tutte qui a contendersi questo titolo 2013.